Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video, scusatemi per la posizione completamente diversa rispetto al solito perché in questo momento sto facendo dei lavorini di lì dove normalmente registro i video e quindi sono un pelino in ritardo sulla tabella di marcia, sono un paio di giorni che mi dicevo vabbè aspetto di finire quello che devo finire e poi registro i video però sto arrivando troppo in là coi tempi e quindi oggi lo registro dalla scrivania comunque scusate l'introduzione così lunga, oggi parliamo di Stephen King se scorre il sangue si tratta di una raccolta di racconti, in particolare sono quattro molto molto carino, in realtà è uscito nel 2020 e mi sento di dire che in linea di massima appunto è carino ma non lo potrei assolutamente mettere allo stesso piano di altri titoli di King dal punto di vista horror non solo nella lunghezza perché comunque sono racconti brevi quindi per forza di cose quanto un racconto ti può spaventare o no dipende anche dalla quantità di pagine, più pagine l'autore ha a disposizione più la storia si sviluppa, più ci sono i momenti eventuali di tensione ma in generale proprio come storie di per sé io personalmente non le trovo storie particolarmente spaventose proprio per come sono costruite qui, ok? Solo per quello il titolo della prima storia è Il telefono del signor Harrigan non è spaventoso, allora è una storia che mi è piaciuta, è un concept che mi è piaciuto fondamentalmente è questo, diciamo, telefonino della morte, tra virgolette, ok? non vi dico di più perché è una storia molto molto breve e un pochino si esplora poi nel corso della storia stessa non è così chiaro già dal principio, mi è piaciuto però lo ritengo un po' più sul livello dei piccoli brividi per darvi un'idea, cioè più una paura nel senso che sicuramente mi successe nella vita vera avrei paura però concettualmente non è una storia così spaventosa il secondo è quello che mi è piaciuto di meno in assoluto ed è La vita di Chuck prima di tutto è suddiviso in tre atti il che non mi è dispiaciuto e sono in ordine opposto quindi a livello cronologico, quindi si parte dalla fine e si arriva verso l'inizio tutto parte in una cittadina in cui sembra praticamente l'apocalisse addirittura verrà a un certo punto completamente spento internet e il nostro protagonista continua a vedere intorno a sé questi, diciamo, cartelli pubblicitari vari qui e lì con scritto grazie mille Chuck 39 anni di non mi ricordo quindi tutto gira intorno al soccavolo di Chuck che ma chi sarà mai questo? ma chi lo conosce questo? ma sta finendo il mondo? ma chi se ne frega di questo che ha finito che sta andando in pensione a 39 anni? poi ovviamente viene esplorato di più, già verso metà dell'atto 1 abbiamo già intuito e quindi quando arrivi al terzo atto in realtà è noioso è un testo che non è particolarmente lungo perché ad esempio il telefono del signor Harrigan è indicativamente un centinaio di pagine la vita di Chuck è poco meno di una settantina o poco più di una sessantina, come volete metterla sembra il triplo più lungo mentre lo leggi ma poi, come vi dicevo, io genuinamente non capivo niente io non stavo capendo cosa stesse succedendo e non è che non capisco le parole davanti a me non è che non capisco che cosa sta a cercare qual è la storia, qual è il senso della storia non capisco perché me lo stai raccontando è assolutamente la storia che mi è piaciuta di meno e come concetto, è un concetto che mi piace tantissimo in realtà quando poi lo esplori per intero quindi non ve lo dico però la storia di per sé mi piace molto come concetto ma è troppo cioè non saprei nemmeno come si poteva migliorare ad essere completamente onesta cioè non so se sarebbe stato da rendere più breve o magari aspettare un po' di più nella spiegazione non lo trovo nemmeno horror fondamentalmente poi abbiamo Se scorre il sangue che è probabilmente il mio preferito anzi è il mio preferito sicuramente e una cosa che ho scoperto sicuramente avrei scoperto anche cercandolo su internet ma era la mia occasione per poter utilizzare per la prima volta questo librone che mi hanno regalato Stephen King, La vita e le opere del re del terrore e ho scoperto che in realtà se scorre il sangue proprio il racconto perché si intitola siccome il testo il racconto in realtà è un sequel di The Outsider io non ne avevo la minima idea alla fine di questo testo ci sono le note dell'autore e l'unica cosa che dice è che avrebbe voluto esplorare di più e infatti poi successivamente King mi sembra 2024-2023 comunque di recente ha pubblicato Holly che è un sequel tecnicamente perché a livello temporale tecnicamente è dopo se scorre il sangue e quindi a me personalmente se scorre il sangue è piaciuto tanto sicuramente mi recupererò mi recupererò The Outsider perché sono gli stessi personaggi quasi noi vediamo ad esempio in se scorre il sangue un personaggio che Holly una detective privata menziona tanto ovviamente una persona che non c'è più nella sua vita e immagino che in The Outsider ci sia l'è capitato appunto adesso noi sappiamo in The Outsider di combattere con questo outsider questa persona strana nemmeno completamente cioè che non aveva nemmeno questo granché di umano e qui Holly scoprirà fondamentalmente che non era l'unico ne esiste una se non altro almeno un altro outsider che appunto non è completamente umano anche se nessuno le crede fondamentalmente e è un bel testo è il più lungo come lunghezza del racconto è bellissimo è un thriller fa un pochino dei passetti avanti e indietro un minimo anche perché noi quando lo vediamo all'inizio lo vediamo in forma di messaggio che arriva a un amico di Holly e quindi poi è una sorta di flashback e da lì poi invece è una sorta di agenda quindi ogni volta ci viene messa la data con gli avvenimenti mi è piaciuto veramente veramente tanto è perfetto è in classico stile King non sono super convinta del finale ma allo stesso tempo consapevole che King poi ha scritto qualcosa successivamente con gli stessi personaggi capisco perché le cose siano andate in un certo modo non so poi concretamente se lui già stesse architettando il testo successivo il romanzo successivo però sta di fatto che l'ha scritto in questo modo e non è malaccio arriviamo poi all'ultimo Ratto è un altro che mi è piaciuto non particolarmente lungo mi ricorda un altro paio di storie che ho letto di King sempre storie brevi anche qui mi dà un po' più feeling da a modi piccoli brividi voler insegnare qualcosa al lettore ma comunque mi è piaciuto molto forse nel concetto un pochino ricorda anche Shining perché il nostro protagonista è uno scrittore che va nella baita del padre che è da cui dove non va più da anni per provare a scrivere per finalmente scrivere un romanzo dopo che ha avuto tante difficoltà nel corso degli anni per effettivamente scriverlo e rimane bloccato lì intanto che poi si ammala gli viene la febbre e rimane bloccato nella baita durante una tempesta quindi un pochino mi ha ricordato quel vibe poi adesso che qui sta comunque il tempo un po' strano ci sono giornate che piove tantissimo l'altro giorno mi sono presa un raffreddore terribile perché ha piovuto tutto il giorno io sono dovuta uscire mi sono completamente emasata mi sono fatta la doccia praticamente quindi anche come vibe l'ho riconosciuto un po' in quello che è al momento il meteo nel milanese il finale appunto è un po' a modi lezioncina l'unica che secondo me poteva avere molto potenziale anche come romanzo a parte è appunto se scorre il sangue proprio il racconto detto questo quindi fatemi sapere voi che ne pensate se l'avete letti questi vari racconti se li leggerete qual è stato il vostro preferito che ne pensate se abbiamo le stesse opinioni su alcuni di questi detto tutto ciò fatemi sapere tutte queste cosine e noi ci vediamo ad un prossimo video grazie